Bella a tutti gli altri Gamers, io sono Joestar e benvenuti a questo nuovo video, quest'oggi siamo su Cry 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 Line, quest'oggi faremo la missione, andiamo a parlare con lo strecone, con lo sciavano, quello che è, ormai non mi sapendo più, quello che c'è, va a bere, un po' di terra dai, non è nulla, se l'ho trovato bei l'occhi, mamma mia quanto sei brutto, Dio mio, è una scimmia, il segno di Diamine ci ha mandato questa volta, visione fiammeggiante, sono qua il Zilla, c'è t'ora, ci stanno a guardare in giro, lui deve fare la montagna, a guardare in giro, che cazzo, che cazzo, cosa succede? il Zilla è uno Crati, io indorso Crati, il Zilla è uno Crati, il Zilla è uno Crati, il fuoco di Crati è attemuto da tutti gli Zilla, viene fermato alle 2 e premia il radio per scoccare una freccia meteora e scatenare la furia del sole, uccidi 5 i nemici per caricare il fuoco di Crati e ottenere un colpo a tripla freccia al prossimo tiro, dopo un colpo a tripla freccia tornerai a una freccia meteora, quanto brutta è la visuale, ok, carriando un video sul telefono, va, wow, ah, c'è proprio una freccia meteora, che stanno proprio delle meteore, wow, vabbè io allagio frecce a caso, frecce a caso, ma da te li hanno dal vulcano le frecce, quello che io vorrei capire, andavo qua a tirarle, andavo proprio dal cielo, c'è proprio solo le vecchie vedrò l'acciaio dal vulcano, però con un paio di giù, so, dovevo ottenere la giù, davvero un attimo, mi dica mi sembra, che stanno la giusta, però se ti fa il buggato non so, io do fuoco a tutto io cazzo me frega io do fuoco a tutto tanto io indosso gradi i gradi difficoltà non so che cazzo sia i gradi andiamo avanti qua freccia tempo per dire che cazzo anche come fa scuole tutto dove stai? freccia freccia te ah te la te te buon natale tenghi tenghi non sei morto? dai 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 c'è qualcuno come andata lassù? peso boom bitch aggiunghi il menino il menino boom tripla la freccia avessi preso con uno ricolli per quini tiro meteore ti sfuggi il menino quindi ti sfuggi le frecce voilà ok ok un attimo riesce a dover bandare facciamo una e due una e due ecco e due ecco tutta اi due No, non mi sei rotto Vabbè, non so po' di gente No, non so Ma che succede? Aiuto Mi trovo una flashback Mamma mia, mamma mia Uso un colpo a tripla freccia per rompere la luna Ok Uccide Zila carica il tuo arco E si, devo uccidere 5 Zila per caricare la tripla freccia Sto a distrugge tutto tranne che uccide Zila Ok, colpo a tripla freccia Non so, non so, non so Ma che succede? Oh Che f***a Oh, è tutto Ma non so, è tutto Che f***a Che f***a Che f***a Che f***a Che f***a Mamma mia! Guarda, mi stai sulla! Aia! Posso aprire la freccia e vai sulla nuova! Aspetta fermi, voglio dare l'animazione dalla nuova che viene colpita! No, non l'ho preso! Siamo iniziati! Una volta ci si vede colpita perché si muove tutta la terra quando la rione divide! Quindi si vede colpita! Si vede la freccia sulla nuova? Perché non è sull'alto? Non lo volevo vedere! Dai! Dai, non c'è credo che sto finito di vigila! Ma tu non è ancora in tappa, regà! Ho giocato poco! Tappa è un parolone, vero? Credo che hai visto il giro del tutto! Tappi! Uff! Clevo la freccia! Vai! Perché dove lo scontiro? Attacca! Ora, parliamo lì e c'è un'altra! Lì! E' un'altra! Ah! Ho fatto una guardra per la dura! Leccioni! E' esplodato malissimo l'allora Ah, era questa la quest Finita qui, così Di un tratto Pur caso Che c'è la trasforma? Uè, vai, uè, che c'è la trasforma? Uè, 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 che c'è la trasforma? Grazie 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 Che so, posso parlare solamente? Non vorrei che spartere anche questo Facciamo un... Capiremo qualcosa, no? Facciamo questa pira Così ci avviciniamo qua Sì Andiamo qui, dai Passiamo quella pira Per dire che non teniamo la larga 500 metri 500 metri Le vanno col contato due izi Però vabbè Non è che... Uccidiamo così Easy 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 Uccidiamo un po' Su 3 Su 2 elite No? Non li posso uccidere col... Col gufo Ma non ci credo Tutti elite Merda Tutti elite sono Allora Quindi Direttamente a qualcosa Perché non c'ho l'abilità Per ucciderli con l'elite Facciamo così Cerchiamo di farla tutta Da Filt Aspettate, vediamo un po' Che possiamo creare Per suddurare la pelle di animale La scheggia di pedre Va benissimo Facciamo un massimo Qui sopra, vedete? Prima... Prima possibile Vi faremo una live Su... Su... Su Fakai Così che portiamo avanti Le creazioni E le capanne del villaggio E porti... E... Saliamo un po' del livello Con qualche questione secondarie Ok Andiamo Conquittando Accampamenti Eccetera Eccetera Allora Porto più che quelle Missioni porto tutte sul canale Porto più Il video così come quello di oggi Allora Vedo uno qui E' quello che è fastidioso Questo è quello che chiama i rinforzi Non se ne accorto Non se ne accorto Non se ne accorto Perfetto Aspetta che questo neanche posso fare il headshot Perché Come avete visto C'hanno le maschere davanti Quindi C'hanno una buona difesa No 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 Questo è il mio Come questo cadavere Però non lo facciamo vedere Ma qui dove stanno attaccati? io direi non proprio attaccati sono ok ora sono un po' attaccati infamio si stanno a divide ah è solamente un cambio di guardia lì dietro una buona prenda buona prenda scoperta easy easy aspettate se c'è verso noi aspettate dovrei avere dentro guarda per terra ciao mi dispiace non ha stato l'ultimo è lei signorina mi dispiace come va? se posso accendiamo la pira noi la facciamo un po' penso che arriviamo lì bastonata facciamo freccione infuocato e vai a go go come una catapulta l'operazione ninja aumentata 900 punti di esperienza buono che non suono male mi serve molta esperienza perfetto più 3 popolazione quindi stanno a 117 perfetto allora ragazzi il video finisce qui spero che vi piaccia e noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live ciao 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 Grazie a tutti.